Parliamo di questa tavoletta Wacom CTL480S, S sta per Small, in vendita su Amazon a 58,41€, c'è il 27% di sconto su questo prodotto. Spedizione Prime, andiamo a vedere, c'è una penna con 1024 livelli di sensibilità, cosa vuol dire? Perché più premete forte e più il segno sarà deciso, se no potete premere piano e avremo un segno meno deciso. Può essere utilizzata per disegnare, per usare Photoshop, ma anche con iMove per montare i video, e dopo un pochettino che si usa può diventare un valido sostituto del mouse, molto più preciso del mouse, perché tenere la penna è qualcosa di più naturale, anche se bisogna prendere inizialmente l'abitudine di non guardare la penna, ma di guardare lo schermo. Per scontornare, per disegnare, è chiaro che la penna è il modo più naturale. Gli angoli che vediamo corrispondono esattamente agli angoli dello schermo, dopo un pochettino ci si prende l'abitudine. Questa è la tavoletta piccola, ne esiste una praticamente identica, però leggermente più grande. La tavoletta, per farla riconoscere, bisogna installare un programma, quindi c'è il programma per Mac e per Windows, compreso già, la penna abbiamo detto già che è senza batterie, ha due pulsanti, premendo il primo di questi pulsantini azioniamo la manina, per esempio dobbiamo prendere un oggetto e spostarlo, il secondo pulsante invece azionerà il tasto destro del mouse, per vedere le varie opzioni che ci sono a secondo di dove abbiamo posizionato la nostra penna. Leggendo le recensioni mi sono accorto che molti non hanno capito dov'è che sono i pennini di riserva, bisogna togliere questo tappo, mentre se apriamo gli altri vani laterali scopriamo che c'è lo spazio per una batteria e per mettere un dispositivo che farà diventare la tavoletta wireless, ma non è una cosa di serie. Inoltre volevo farvi notare che mentre abbiamo la tavoletta collegata, continua a funzionare regolarmente il mouse, la tavoletta rileva la presenza della penna già a un centimetro di distanza, cioè prima ancora che la punta della penna entri in contatto, questo fa sì che possiamo appoggiare la penna, perché vediamo esattamente dov'è che si trova la freccetta sul nostro computer nel punto esatto in cui vogliamo andare ad agire. Wacom è leader nel mondo delle tavolette grafiche, questa è la tavoletta più economica di Wacom, comunque leggendo anche le recensioni, non solo la mia ma anche degli altri che potete leggere su Amazon, la gente rimane normalmente molto soddisfatta del rapporto qualità-prezzo che ti dà questo prodotto. Su Amazon ci sono maggiori dettagli e ben 23 recensioni. Come sempre vi lascio il link in descrizione per andare a fare gli approfondimenti sulle recensioni, sulla descrizione e se in qualche modo vi sono stato utile lasciatemi un italico pollice in su. Link in descrizione. Link in descrizione.